A quasi tre anni di distanza da quella drammatica notte del 9 settembre 2017 che si portò via per sempre, Sara Scimmi, 19 anni, travolta da un mezzo pesante alle tre del mattino a Castelfiorentino, in un'aula di tribunale si va a caccia della verità. Nel processo per omicidio stradale è imputato un autotrasportatore cinquantenne di Santa Maria a Monte che con il suo tir passò sopra alla ragazza, mentre è difficile ricostruire la dinamica sul perché si trovasse in mezzo alla strada, come ci fosse arrivata e chi fosse con lei. Non c'è un'immagine dell'investimento, i filmati hanno però consegnato al processo 11 secondi di frenata, ovvero il tempo che dura, secondo gli investigatori, l'intensità dei fanali posteriori in modalità stop, del mezzo pesante, in prossimità del corpo della ragazza. Sull'asfalto, dicono ancora i rilievi, ci sono i segni delle grosse gomme che sterzano come per evitare un ostacolo, invadono la corsia opposta dove fortunatamente non transitava nessuno e poi rientrano nella propria. Il camionista è stato riconosciuto grazie ad altre immagini, quelle di una casella autostradale. Nello stesso frame, alle 3.22 e 46 secondi, anche se l'orario della telecamera di un distributore va circa un minuto indietro rispetto all'ora reale, passano anche dei ragazzi a margine della strada. Probabilmente avevano passato la serata nella vicina discoteca, quella in cui era stata anche Sara. Il 17 settembre, in un'altra udienza, ancora tecnici, presto cominceranno anche le testimonianze di chi quella notte è passato da lì.